e quelli sono da comportarci bene parliamo, non potete mandarmi, ho scoperto così, io sono una persona timida in passato e lo so anche difetto e lui si intrufola di che? io sono stato esplicitamente invitato tu di una volta, mi ha detto tu devi venire ma noi ci vogliamo perché ce la sono presa ci andano le mutande di ferro, ci voglio sapere domenica si ride io mi chiamo Elisabetta e insieme a Stefania, l'altra collega, sono una delle guide ufficiali della provincia di Grosseto sarò con voi questa mattina nella visita di Pitigliano e poi al termine della degustazione che avrete faremo il giro di quella stradina là sotto il paese io sono stati un po' quello che fa io sono stati ci pensi ringrazio è che la piazza è venita dalla connessa è passate per esempio ma questo è il giro di un'altra Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' questo lì, lì si è accorto su... Grazie a tutti. E' eccezionale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.